sotto questa torre di vetro viene rilevata la massima velocità delle auto in corsa che per la formula 1 si parla di 320 340 km orari perché poi da 350 ai 100 metri iniziano la staccata per fare la prima chicane che è il punto più lento della pista in prima marcia a 70 all'ora ma poi andiamo ad affrontare una delle parti veloci del circuito di monza il curvone biassono arriviamo alla seconda chicane della roggia quella che l'anno scorso in occasione della formula 1 è diventata famosa per il contatto tra vettel e emilton al primo giro arriviamo alla curva di lesmo la prima curva di lesmo questa è la seconda curva di lesmo curva del servaglio servaglio è il nome della piccola fattoria qui passiamo sotto la curva sopraelevata nord dell'ovale d'alta velocità che ora non viene più utilizzato e qua arriviamo alla variante a scala questo lungo retilino è quello opposto al retilino di Prato la partenza di arrivo e qui arriviamo all'ultima curva del circuito la curva parabolica sotto la torre di vetro troviamo la linea del fraguardo questa è tutta la griglia di partenza e qua c'è la linea invece di partenza di fronte al semaforo perché Monza ha diversificato la linea di partenza con la linea d'arrivo può scendere a farsi una foto?